Da creme e saponi al gel disinfettante succede nei laboratori della Biocosmes di Bosisi Oparini, azienda che ha riconvertito parte delle proprie linee di produzione destinate a rifornire i principali marchi del mercato internazionale della cosmetica, dedicandosi in questo periodo ad un fabbisogno emergente che viene prima di ogni logica commerciale. Abbiamo deciso di intervenire in questo settore quasi nuovo per noi, per una necessità venuta dagli operatori sanitari, delle farmacie e degli ospedali. Soprattutto le farmacie ci avevano sollecitato per la mancanza di dispositivi di protezione, questa era la prima settimana di marzo e quindi abbiamo deciso di intervenire e di riconvertire parte della produzione. È stato complicato? Quanto tempo ci avete messo? È stato un esercizio, fra virgolette, imprenditoriale bellissimo perché il time to market è stato di 11 giorni, quindi fortunatamente l'azienda è dotata di un patrimonio formulativo importante, quindi abbiamo attinto a una formula sviluppata nel 2004 per la SARS, l'abbiamo riaggiornata e riammodernata aumentando la percentuale di alcol, portandola al 65% come le indicazioni e le disposizioni dell'OMS riportano e siamo riusciti il 14 di marzo a iniziare la distribuzione nelle farmacie. Un'altra particolarità, una formula rimasta a lungo nel cassetto. Sì, questo fa parte del know-how delle aziende, quindi abbiamo ripreso una formula già sviluppata nel 2004, l'abbiamo ora modernata dal punto di vista normativo e adeguandola ai dettami dell'OMS, è stata anche approvata dal sistema sanitario, quindi dalla farmacia dell'ospedale di Lecco, dalla dottoressa Ratorre e quindi con quello abbiamo potuto supportare le necessità urgenti e dell'ospedale di Lecco e dell'ospedale di Sondalo che sta diventando un centro di eccellenza per il trattamento della coronavirus. È importante precisare che avete avuto il sostegno delle istituzioni in questa riconversione. Sì, assolutamente sì, direi che le istituzioni per una volta hanno sgretolato tutti i sistemi di burocrazia, quindi a partire dalle dogane di Como che hanno derogato il tipo di alcol che abbiamo potuto utilizzare, il sindaco di Lecco e gli assessori che ci hanno supportato nella ricerca dell'alcol che era praticamente irreperibile, si è formata proprio tutta una catena di solidarietà intorno a noi che ci ha permesso di arrivare al risultato. Flaconi destinati agli ospedali di Lecco e di Sondalo, ma non solo, intanto quant'è la produzione e chi altro può acquistare questo gel disinfettante? La capacità produttiva al momento è di 20.000 pezzi al giorno per la versione consumer, quindi da 100 ml e da litro dedicato agli ospedali. Il litro è esclusivamente a pannaggio delle strutture ospedaliere, i flaconi invece consumer sono distribuiti attraverso le farmacie e attraverso la catena Iperal presente in tutto il territorio. L'emergenza coronavirus così ha innescato un'alleanza virtuosa e tempestiva tra imprese e territorio dalla produzione alla distribuzione nel nome di un principio di solidarietà sociale. È un'iniziativa nata spontaneamente da una telefonata di Gianluca Braguti che conosco e stimo come imprenditore, che mi ha annunciato la possibilità di mettersi a produrre gel disinfettante in un momento in cui la domanda è scoppiata e tanti fornitori, uno in particolare molto conosciuto a Mokina, non aveva più disponibilità di prodotto. Io ho dato la mia disponibilità a prenotare 100.000 pezzi del prodotto da 100 ml e per poi poterlo vendere nella nostra catena. Oggi questo prodotto è già in vendita e lo stiamo vendendo a prezzo di costo. Riteniamo importante non lucrare, non marginare su un prodotto di prima necessità come il gel disinfettante. Iperal è da sempre vicina ai territori in cui opera. In questo momento storico di grande difficoltà dovuta all'epidemia coronavirus è doveroso essere vicini a chi in prima linea opera nel settore della sanità, gli indici di infermieri e alle strutture ospedaliere. Abbiamo deciso quindi a nome dei nostri collaboratori e clienti di donare 300.000 euro agli ospedali dei territori in cui operiamo. Agli ospedali della provincia di Sondio sono stati donati 100.000 euro.